Il corpo! Il corpo! Il corpo! Il corpo! Il corpo! Il corpo! E allora il corpo! Con sanghi! Con sanghi! Ci sono delle notti in cui è solo amore. Ah! Ci sono notti in cui è solo amore! È solo amore! È solo amore! E tutti, dico tutti, parlano! Parlano! E parla, parla! Di la tua! Non c'è un'opinione! Parla! Parla! Tutti parlano e la sola cosa che conta è la natura che fa silenzio. È una cosa... Ma poi perché avere tutta questa... questa cosa dell'andare a braccio, del legge, dell'interpretare, del dire, del non dire... Ma chi se ne fotte? Chi se ne fotte del punto di vista? Ma veramente? Ma veramente si crede che ci sia qualcuno che può fregargliene qualcosa di quello che uno pensa? Veramente ancora si crede all'ego? Al narcisismo? A tutte queste stronzate? Non hanno senso! Quindi io dico... Consani! Ghedi! Bombelli! Una tisana! Noi abbiamo bisogno di far incontrare delle persone! Cosa me ne fotte a me? Se io stesso vado a intervistare Bretis Tonellis! Se io vado a intervistare Nicorbi! E poi ci andrò! Perché è ovvio che ci andrò! Però chi se ne frega? Non frega neanche a me! Come posso pensare che frega qualcun altro? Non ha senso! Massimo Carlotto! Cazzo! Un grande scrittore italiano! Qualcuno che inventa! Non uno che si mette lì e fa finta di essere uno scienziato! Uno che crede che parlare di cose che hanno a che fare con altre discipline sia artistico! Ma basta! Ci avete rotto i coglioni! Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Cioè, ma veramente! È una cosa che non ha senso! L'arte, la cultura, tutto questo è fanciullezza, è immaginazione, è invenzione! Non è essere simili a degli ingegneri, essere simili a degli scienziati! Non è parlare di quanto sia interessante l'anfibio microscopico che vive nell'Antartide! Non ce ne fotte un cazzo! Noi vogliamo leggere, godere, spaziare, sapere, impazzire, sballare, provare amore, meraviglia e tutte queste cose qua! Ma dove diavolo è questa roba qua? Che c'è di sicuro! C'è di sicuro! Com'è sicuro che non ho più vent'anni e c'ho la pancia! Ma chi se ne fotte? Io questa notte amo soprattutto Enrico Ghedi, Michelangelo Consani, Ilaria Bombelli, Claudia Attimonelli! Amo quella gente là! Anzi no! Amo loro! Questa notte io amo loro! E il mio corpo è per voi! Eh? Il dramma! Eh? La legge di Jung! Non! Man!